Ciao, benvenuto o bentornato. Ho bisogno di scegliere un nome per il mio canale, mi aiuti? In questo canale troverai tre rubriche, carriera psi, la carriera in mare, cooking, la cucina siciliana della nonna e lo skin care. Per lo skin care ho tratto frutto dalla mia esperienza come interprete traduttore e mediatore linguistico ai medici estetici dei centri di bellezza spa e delle navi da crociera. Spero mi apprezzerai la spontaneità e la creatività e intanto ti auguro buon viaggio nel gusto, nella bellezza o in mare.